E' la lavanderia da noi, è una canzone che parla di una leggenda che viene da lontano, la leggenda di una figura mitologica femminile, la figura della lavanderia. Noi abbiamo incontrato questo personaggio in Galizia, a 2000 passachilometri da qui. Però abbiamo cercato anche a casa, abbiamo trovato anche qui una versione della lavanderia. La nostra lavanderia si chiama ancora Languana ed è questa figura, questa donna che non si fa vedere oppure che se si vede di notte in panni e incontrarla può essere fatale. E' un po' come la figura della sirena che si trova in tutto il mondo. Questa è la lavanderia da noi. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.